Lo scorso 16 agosto causò un incidente stradale a Barcellona Pozzo di Gotto, urtando con la sua autovettura uno scooter, provocando il ferimento dei due ragazzi a bordo del ciclomotore per poi fuggire senza prestare soccorso. Adesso i carabinieri hanno identificato e poi denunciato la persona alla guida dell'auto. Si tratta di una ragazza di 22 anni denunciata per omissione di soccorso, lesioni personali stradali e guida sotto l'influenza di alcol. Il 16 agosto, mentre era alla guida della sua autovettura sul lungomare di Spinesante, la giovane donna ha centrato in pieno un ciclomotore condotto da un minorenne con a bordo un passeggero, anch'esso minore, per poi allontanarsi dal luogo dell'incidente. A seguito dell'urto i due giovani sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Barcellona. I militari dell'arma intervenuti immediatamente sul posto hanno rintracciato la giovane che si trovava ancora a bordo della sua auto, poco distante dal luogo dell'incidente. A seguito dei successivi rilievi, i carabinieri hanno sottoposto la giovane all'alcol test. I risultati hanno confermato i sospetti. La giovane è stata ritrovata con un tasso alcolemico pari a 1,49 grammi per litro nel sangue. Inoltre, l'auto era anche priva di copertura assicurativa. Per chiudere il cerchio, il giovane alla guida dello scooter non ha mai conseguito la patente ed è scattata la denuncia anche per lui.